Bentornati su MyFootballJersey. Rivediamo un'altra maglia, l'ultima per questa stagione del Benfica. Questa è la terza maglia in edizione FAN. Alla prossima. Come detto le ho viste tutte quelle di quest'anno. La pria preferita rimane comunque la seconda. Questa tra l'altro trovate qui in alto la recensione. Questa però è altrettanto bella, fatta molto bene e al costo che vedete qui sopra un affare imperdibile. Se volete ordinare la maglia o saperne di più trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché sul sito c'è anche un link per ottenere un coupon di 3 dollari. Quindi il costo diventa ancora più basso. Ora vi lascio la parte finale. Prima però come al solito mi raccomando iscrivetevi al canale. Questo è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto. Alla prossima. Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.